Un anno fa lei ha rifatto con la stessa persona, quindi non era né una scappatella allora, ma evidentemente è una cosa importante. Se viene a mancare uno di questi elementi, allora è lì che io subentro, è lì che entro io con il mio elemento. Perdonata, per due anni non l'ha guardata, non l'ha toccata, non l'ha sfiorata. Allora è lì che io subentro, è lì che entro io con il mio elemento. Tra poco sentiremo anche la testimonianza di questo terzo uomo, l'uomo che in qualche modo è stato quello che ha consolato Miriam mentre il marito la trascurava dopo la pubblicità. Io sono un uomo single senza legami stabili per mia scelta personale e sono stato l'amante di Miriam. Chi mi conosce sa molto bene come la penso sui matrimoni, non fa per me, ma sa anche molto bene come la penso sui moralisti. Mi preferisce dare addosso all'amante, l'intruso, lo sfascia famiglie, ma voglio ricordarvi che per fare un tradimento bisogna essere in tre. Ho fatto con Miriam e con tutte le altre donne con cui ho avuto relazioni estraconiugali. Infatti non sono mai stato in casa di Miriam. Giorgio in qualche modo prende le distanze e dice se a qualcuno, se nel matrimonio manca qualcosa, arrivo io. Ma io non posso neanche dargli torto perché giustamente la colpa è sua. Si è comportato ben, si come ha detto non è venuto in casa mia. Sembra che stia parlando una specie di professionista. Se viene a mancare uno di questi elementi, allora è lì che io subentro. È lì che entro io che il mio elemento è l'intimità. L'intimità è qualcosa che viaggia a livelli superiori, è una canalizzazione di sentimenti. Se viene a mancare uno di questi elementi, allora è lì che io subentro. È lì che entro io che il mio elemento è salvo il matrimonio. Io ho salvato tanti matrimoni. Lui non l'ama, se non si sono mai amati. Ma che non mi si venghi a dire a me che sono stato io a rovinare il matrimonio. Allora Italo, qui c'è un'accusa precisa. Giorgio si assolve. Non sono io che ho rovinato questa unione. Era già rovinata di suo. Vabbè, qui adesso sta facendo il protagonista. Se prima avevo detto che aveva parlato giusto, ora si sta un attimo allargando, prendendo la proprietà. Allora, sicuramente, come detto prima, non...